Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il lanciere, lo vedete sullo sfondo, materiale Tops Road to UEFA Nations League Finals tutto materiale che mi è arrivato dalla Tops che devo ringraziare, abbiamo 5 pacchetti della raccolta, abbiamo l'eco blister che contiene una card oro in edizione limitata e lo starter pack in versione italiana mi è arrivato questo materiale promozionale che voglio andare a condividere e ad aprire con voi, prima però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video detto questo direi di partire subito con l'eco blister, andiamo a vedere che carta in edizione limitata troviamo e cerchiamo di portarci avanti anche un po' con la raccolta non stiamo messi male ma non stiamo nemmeno messi troppo bene con questi pacchetti andiamo a vedere come ci mettiamo partiamo subito con Marco Reus, Odegaard, Coman, Duerty, Muriki poi abbiamo l'International Star e Cramaric abbiamo Kufal, una carta parallela ed eccola qui Crystal Blue di Lifis che mettiamo da parte e a terminare il pacchetto abbiamo Sergio Busquets e lo Young Player To Watch e Ryan Gravenberg Young Player numero 5 lo mettiamo da parte perché è una delle card più rare allora andiamo avanti beh queste card sono veramente fatte bene come sempre le card tops anche della raccolta Match Attacks 101 in attesa intanto già stanno uscendo le card della prossima raccolta sono le Match Attacks 2022-2023 sempre di tops stanno uscendo in Inghilterra i multipack first edition quelli come sono usciti l'anno scorso con alcune card davvero molto rare quindi se riuscite a procurarle fate bene è un design tutto nuovo ragazzi le aspetto con ansia in Italia dovrebbero arrivare intorno al 26-28 agosto speriamo, speriamo bene sono veramente fantastiche e intanto noi ci accontentiamo delle 101 abbiamo McGregor, Renato Sanchez e a terminare quelle un po' più semplici e quelle base tipo Courtois abbiamo la numero 1 Robertone Lewandowski che è doppia, a me serve la numero 2 e abbiamo la versione parallela Purple di Ruben Dias il numero 10 quindi un'altra ottima carta ah no, ho ancora la carta, l'ultimo pacchetto dell'Eco Blister con l'edizione limitata numero 8 è Jack Grealish l'inglese ragazzi che carta fantastica andiamo avanti con Pjanic l'International Star Raja poi abbiamo Denzel Danfraes Cialanoglu e la Young Player Two Watch numero 1 è Gavi ora possiamo andare avanti con gli altri pacchetti che mi sono arrivati andiamo a vedere abbiamo Timo Werner Mare Chiaro Amsic e Leonissi oh, Pessina, ci mancava ci mancava, non l'avevamo ancora visto ci eravamo preoccupati Liam Walker, Tielemans, Perisic e Varane poi abbiamo oh, abbiamo visto Roberson e un'altra Purple è la numero 7 è Giorgione Chiellini in versione parallela Purple questo è un altro gran bel colpo la numero 7 è la numero 10 del 101 Countdown in versione parallela ne abbiamo visto un'altra è una verde, parallela verde intanto abbiamo Koke, The Clan Rice Kingsley Coman Savic Stanciu Pasalic Socek Antoine Griezmann e poi la parallela verde di Diogo Iota e E.E.E. Yusuf Demir Young Player Tuoch in versione base altri tre pacchettini altri tre pacchettini andiamo a vedere che cosa troviamo Robin Olsen Oyarzabal Barsegan poi abbiamo Liam Walker sarà il terzo quarto Gulaxi Matti Cash Blind poi abbiamo la parallela di Pucchi in versione Crystal Blue e a terminare abbiamo Memphis Depay e Thomas Müller altri due pacchettini per noi allora abbiamo Luke Shaw Sommer Upamecano Kvarash Vilja Doherty poi abbiamo Rui Patricio Denzel Danfrais l'abbiamo appena visto Milinkovic Savic altra parallela green Joao Cancelo e a terminare il solito Bruno Fernandes la numero 8 ormai sempre presente nei nostri video spacchettamento poi abbiamo oh altra parallela viola speriamo bene abbiamo Akanji Bjarnson Dallas Lifis Matteo Pessina addirittura doppietta Pessina stava a sto giro fantastico Mike Tominei Pepe Brozovic poi abbiamo la carta di Erkin e Andy Robertson la numero 19 ancora una purple molto bene ragazzi guardate qui abbiamo trovato due carte verdi due crystal blue e ben tre parallele viola il numero 7 la numero 10 e il numero 19 veramente veramente un bel colpo lo starter pack non lo apriamo perché credo di scambiarlo magari con qualche collezionista estero tanto già già ce l'abbiamo e sappiamo che cosa troviamo all'interno però a terminare il video ho un altro pacchetto direi di andarcelo ad aprire insieme ragazzi scudo ovviamente l'ho messo alla fine vi ricordo un trucco semplice semplice se non volete andare a pesarvi il pacchetto dall'edicolante ragazzi sistemate per bene le carte e andate a toccare gli angolini più facile toccare la parte alta del pacchetto sentite tranquillamente un angolo smussato perché al penultimo posto del pacchetto ci sarà la carta versione shield dello scudo si trova circa uno scudo in ogni in ogni pacco da 24 pacchetti quindi dovrete avere un po' di fortuna a trovarlo subito se no tocca toccarli tutti eccolo lì lo vedete lo scudo prima delle ultime due carte l'angoletto ovviamente la forma è diversa riuscirete a toccare e far piegare le ultime due carte è un metodo praticamente infallibile per trovare queste carte abbastanza rare abbiamo Shakiri Kumbulla Valz Lissakovic poi abbiamo Giorgino Vijnaldum Dujan Tadic e lo scudo è Giorginho Giorginho carta doppia però versione base però portiamo a casa Giorginho Alessandro Bastoni al numero 44 e a terminare la numero 2 Cristiano Ronaldo mi manca finalmente è arrivato anche Cristiano eccola qui ora mi manca Erling Haaland diciamo della prima pagina Cristiano Ronaldo arriva anche lui e vai così terminiamo qua questo spacchettamento abbastanza importante abbiamo trovato la limited edition di Grealish lo stemma lo scudo di Giorginho abbiamo trovato Cristiano Ronaldo tante carte interessanti le parallele viola di Chiellini Ruben Dieci e Robertson tante altre carte molto interessanti prima di terminare io però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao